Ciao ragazzi, questo è il video per annunciare la vincitrice del concorso, non so quante volte ho fatto questo video, credetemi sono stanchissima perché una volta mi chiama il mio ragazzo, una volta mi chiama quello... Vabbè, basta. Allora, che dire, mi siete piaciute tantissimo, ringrazio tutte sia nuove che vecchie iscritte per quanto riguarda quelle che hanno partecipato al concorso e anche quelle che comunque non hanno partecipato e mi stanno seguendo. Quindi un bacione enorme a tutti. Allora, le partecipanti sono state 17 con 22 video di risposta, scusate, 20 video di risposta e sono Banawic, Ellie Borti, Lula Pooh, Animuccia30, Asilanna9, Veronica Parr, Jessica Caranno, Miser Dedra, Signorina Tasti, Federica7, Chotorix, Dodi Vicky, Sareta Makeup3, Mara86ifi, 92 Il Bello delle donne, Ibrezze, Barbara Boccia. Allora, grazie veramente a tutti voi, purtroppo devo scegliere solo una vincitrice e per quanto riguarda il tema attrice preferita, ce l'ho scritto qua, che cavolo faccio a fare, che cos'è? il tema attrice preferita. Mi sono piaciute molto Signorina Tasti, Lula Pooh, Asilanna9, Banawic e Mara86ifi. Per quanto riguarda il trucco carnevale, mi sono piaciute tanto Federica7, Sareta Makeup3, Chotorix e Il Bello delle donne, 92 Il Bello delle donne. E' stato difficile scegliere la vincitrice per quanto riguarda, cioè perché comunque un tema doveva vincere, o il tema di carnevale o il tema di attrice preferita. Alla fine ho scelto il tema di carnevale perché mi sono piaciute davvero tanto queste ragazze, comunque devo dire che alcune di queste ragazze non hanno rispettato proprio la lettera, le regole, comunque fatto sta che ragazze io voglio ricordarmi una cosa, che non so quando ma a breve ci sarà la collaborazione con una ditta molto importante e quindi ci sarà un giveaway sponsorizzato da questa ditta, quindi non vi fate fare brutte figure, rispettate una prossima volta tutte le regole e va bene. Allora, Federica7, mi si è piaciuta tantissimo con il trucco della farfalla, io sinceramente sono rimasta stupita quando l'ho visto perché ho detto comunque Federica7 e Chotorix non hanno messo il video tra i preferiti, vabbè, allora dicevo Federica mi è piaciuta tantissimo con il trucco della mezza farfalla, veramente mi è piaciuto tanto, io ora non so se l'abbia creato lei o l'abbia creato qualcuno, comunque fatto sta che lei ha partecipato e io ho detto che comunque potevano fare un collage di foto eccetera eccetera, quindi ero fuori responsabilità, anche se l'hanno truccata non mi importa, mi è piaciuto ugualmente, se sei stata tu 16 anni complimenti davvero, perché a 16 anni io mi scordavo di fare una cosa del genere. Per quanto riguarda Saretta Makeup3 mi è piaciuta tanto la carta con il cuoricino, con l'asso dei cuori, davvero. Saretta Makeup3 e Chotorix hanno fatto dei video un po' ironici, nel senso che mi è piaciuto tantissimo il fatto che avete ironizzato sui video, è una cosa che mi ha colpito tantissimo e quindi veramente mi è piaciuto molto il fatto che voi abbiate ironizzato, in che senso? Oddio non è che vi dico fate le pagliacce nel video, nel senso che Saretta ha iniziato col dire, c'è ragazzi questo è un trucco per tutti i giorni, ho messo anche gli occhiali rossi, mi ha fatto ridere, è una cosa che mi diverte. E Chotorix mi ha detto mi sto rovinando pure i capelli, devo andare a mangiare, volevo andare a mangiare, non saremmo io che cosa volevo amare, mi ha divertito tantissimo e poi ha detto che la colpa è la mia. Quindi, 92, il bello delle donne, mi ha piaciuto tantissimo, davvero tanto, sia con la mascherina viola che con il make up avatar, mi è piaciuto tantissimo, davvero si è stata davvero brava, complimenti. fatto sta che è la vincitrice del concorso, ma proprio perché ha detto tu mi devi fare arrivare come minimo al terzo posto, io la faccio arrivare al primo posto ed è Chotorix con il make up della lioparda. Quindi ragazze, davvero grazie a tutte, è stato difficilissimo scegliere una vincitrice, per chi verrà all'incontro vi aspetto molto volentieri, un bacione a tutte voi, davvero di cuore e basta, al prossimo video. Ciao ragazze!